o la gente rieccoci qui a parlare di betting nella fattispecie le partite riguardanti il hot goal goal che arriveranno dopo l'ora di gioco questi sono i match previsti che andrò a seguire per questa strategia veramente molto semplice tanto studio e l'attuazione richiede veramente poco tempo quindi il massimo per coloro i quali la vorranno seguire nel servizio che nascerà tra poco abbonamento ad un costo mensile veramente molto esiguo ma parleranno i risultati parleranno i fatti come importante che sia e questi saranno i match con tanta pro league under 21 belga e tra poco o meglio tra poco a cominciare dalle 16 con ostende verse vedremo un attimino lo sviluppo di questi match quello che accadrà